Mattia Ecker, centrale della Nazionale Azzurra Under 22 maschile, buona la prima Mattia. Insomma, vittoria contro la Repubblica cieca, 3-1. Che sensazioni? Allora, l'esordio non è mai facile, ma siamo felici che sia andato bene. Avevamo aspettative alte per questa partita, ma soprattutto le emozioni da spogliatoio, diciamo, le sensazioni da spogliatoio erano molto belle, eravamo molto cariche, siamo felici che sia finita bene. L'abbiamo visto sempre molto uniti durante tutti gli allenamenti, durante tutti i collegiali, insomma, si è visto anche quest'oggi la partita, come hai detto te, era comunque difficile, è sempre un esordio, una partita assolutamente ostica contro una squadra difficile da battere, poi alla fine, insomma, ce l'avete fatta quel terzo set che vi siete fatti lasciare, insomma, scappare sul finale. Sì, esatto, il terzo set abbiamo sprecato qualche occasione con cui potevamo chiudere la partita subito, ma non ci siamo scoraggiati, siamo una squadra appunto molto unita e insieme siamo andati verso il nostro obiettivo. Domani è la sfida contro la Francia, sfida che potrebbe essere assolutamente importante, ci potrebbe essere la qualificazione alle semifinali. Sì, domani abbiamo la Francia, sappiamo benissimo tutti che è una squadra molto forte, vedremo un po' cosa ci aspetta domani, noi partiamo sempre carichi e con l'obiettivo fisso in testa. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi.